ciao bambini oggi proveremo fare un puzzle con gli animali sul ghiaccio vediamo un po se riusciamo a farlo insieme apriamo guardate quanti pezzi vediamo un po ghiaccio vediamo un po ecco il nostro puzzle, guardate che bello qui abbiamo tutti i nostri amici sul ghiaccio perché come sapete adesso siamo in inverno cari bambini quindi il posto dove di solito si va all'inverno è proprio la montagna con la neve e quindi qui vediamo tanti amici che fanno tante cose proviamo a vedere se trovate l'orso polare che fa i gelati cerchiamo, cerchiamo, eccolo proviamo a vedere se trovate due coniglietti che pattinano tenendosi per mano con i guanti rossi cercate, cercate, eccoli e vediamo se trovate un orso con la testa dentro nella neve chissà cosa sta cercando eccolo là e poi proviamo a cercare nel lago ghiacciato una renna che pattina ma che sta per cadere è un po' preoccupata eccola vediamo poi questo libretto cosa ci dice fuori è freddo il clima è polare l'ideale per uscire a giocare ben coperti con sciarpe e berretti pattinano insieme lupi e coniglietti per ore nel bosco è nevicato e il paesaggio è tutto imbiancato orso ha un'idea geniale a palle di neve vuole giocare la neve fresca si può modellare e un nuovo amico ci puoi creare con una carota e un cappello in testa è già pronto per venire alla festa sali e scendi con lo slittino ed è già ora di fare uno spuntino quando il bosco è tutto ghiacciato si troverà di sicuro un fresco gelato per gli amanti della velocità c'è un mezzo senza benzina o elettricità è la slitta che corre forte quando l'inverno è alle porte ecco qui gli animali sul ghiaccio bellissimo grazie per aver fatto questo puzzle insieme a me ciao